Musica Bello a tutti ragazzi qui è Giovedere Nessante Ben ritrovati nel mio canale Oggi siamo qui con il 23esimo episodio Su diventa un mito su PES 2016 In questo episodio andremo a giocare 3 partite Le prime 2 saranno con la magna della nazionale Infatti se andiamo a vedere nel calendario C'è la partita contro la Colombia Poi quella contro la Germania che sono 2 amichevoli E poi ci sarà la partita contro l'Alcorcon Valida per la Coppa di Spagna Mi scuso ragazzi se l'episodio scorso è durato un po' di meno rispetto al solito Ma ho giocato solo 2 partite Invece da ora in po' ne giocheremo sempre e solo 3 Però mi raccomando ragazzi Cerchiamo di supportare al massimo questa serie Arrivando a 500 like Quindi ragazzi ci vediamo in campo Per la prima partita con la maglia dell'Italia Eccoci qui ragazzi Le squadre stanno per entrare in campo E inizia adesso Italia-Columbia Dai che c'è un po' di spazio Su così E' buona guardami Bello possiamo andare alla finta E non t'ho visto per il sinistro Rimpattuto proprio da te Non so chi tu sia Ma ho sbagliato perché dovevo dartela Attenzione Quentin è ancora buona Dentro E' buona per Balotelli 1-2 Attenzione Fuori 1-2 E no mi sto allargando troppo Mi sto allargando troppo Vediamo un cross dentro di testa Bellissimo Mi sono allargato un po' troppo Io ho segnato Berardi Con il numero 10 Volevo andare al tiro io sinceramente Poi mi sono allargato E allora a quel punto Ho fatto un bel cross dentro Per fortuna che c'era Berardi Lì sul secondo palo Che l'ha messa dentro 1-0 Italia Dopo soli 12 minuti Attenzione E' qua è andato Guardami che c'è lo spazio Ottimo Ottimo Proviamo col destro La parata Mamma mia che botta Che abbiamo tirato Con calma Il cross dentro Bellissimo Dovevi tirare dal volo Perché non ha tirato al volo Un pallone bellissimo Di Berardi Guardate lì Doveva tirare subito Berardi Non stopparla Che è di troppo stretto lì Via così che acceleriamo Possiamo andare Possiamo andare Allarghiamo per Balotelli E non ci siamo capiti Io Balotelli Poi ho spina Come ha rilanciato In scivolata Perché Finiamo tempo Comunque 1-0 Stiamo letteralmente Distruggendo la Colombia Che non ha fatto niente Siamo riusciti a fare un assist Ma ancora non abbiamo segnato Vi ricordo che se non segniamo Il mister ci toglie dopo Circa 60 minuti Guardami Ok ci siamo Ci siamo Anche se siamo stanchi Anche se siamo stanchi La finta Appoggiamo per Balotelli Dai Balotelli che è lì Guardami dentro Il destro deviato E sarà calcio d'angolo Ero troppo stanco Per poter arrivare al tiro io Quindi ho preferito Appoggiare per Balotelli Sarà calcio d'angolo comunque Attenzione Palla dentro Di testa Attenzione ancora buona Però il destro Palorete E sono 2 2-0 Ha segnato questa volta Tiago Motta E andiamo Grandissimi ragazzi Grandissimi E noi siamo ancora in campo Nonostante la nostra stanchezza Sia ormai arrivata A valori Infiniti Buona per noi Bello Bello il passaggio Possiamo andare Attenzione Ce la mettiamo davanti E ci ferma Alvarez Che appoggia indietro Attenzione ancora Ospina Questo rilancia sempre così Sto Ospina Poi attenzione Balotelli è buono per noi Possiamo andare Il sinistro La parata Ancora A noi non vuole entrare Oggi Ma Ospina Due rilanci Li ha fasi tutti quanti In scivolata Perché non lo sa neanche lui Guardami 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 Bellissimo Bellissimo La mettiamo giù Proviamo il sinistro No palo Stavo facendo un gol Che rimaneva nella storia Mamma mia Stop e poi Tira al volo Palla sul palo Oggi proprio È giornata È partita sfortunata Per noi Perché non è voluta Proprio entrare Ci prova Quel cross dentro Allontana via L'Italia Vediamo un po' Se ci arriviamo noi Ma l'abito doveva Fischare la fine Della partita E infatti è così Finisce qui 2-0 Comunque è un amichevole Non serve Assolutamente niente Vincere o perdere Però fa comunque Piacere Fare una bella partita Noi concludiamo Con una versione Di 7 Il migliore in campo È Berardi Con 7.5 Ok E andiamo avanti Nel calendario Prossima partita Leggermente più difficile Perché andremo ad affrontare La Germania Vediamo se siamo in campo Oppure no Sì Siamo sempre tra i titolari Anche se la partita Si gioca dopo due giorni Quindi saremo stanchi morti Però Noi siamo in campo Quindi andiamo a giocare Anche la partita Contro la Germania Eccoci qui ragazzi Inizia adesso Italia Germania Attenzione Palla dentro Per gozze La mette giù Subito Ha segnato gozze Si vede proprio Che è tutta altra partita Rispetto a quella Contro la Colombia Attenzione È bello il lancio Per Balotelli Bravo Balotelli Prendila Prendila Ora guardami indietro È buona Il sinistro E la parata Cavolo Bell'azione però Bel movimento di Balotelli Attenzione qua Bene che recuperiamo Palla senza fallo Via così che possiamo andare Dai che c'è lo spazio Dai che c'è lo spazio Fuori uno Via così che acceneriamo Via così Fuori due Via così Possiamo andare Il sinistro La parata Poi sulla respinta Dai Balotelli Bastava che ci mettevi il piede lì Attenzione però Recuperiamo un altro pallone Balotelli di tacco Bene Appoggiamo per Balotelli Che non riesce ad andare Però accidenti Bella azione Dai ci siamo Stiamo reagendo Attenzione qua Osil E dai Merkel Il destro Che paratona Di Buffon Attenzione qua È buona per noi intanto Appoggiamo per Balotelli È regolare Dimmi che è regolare Ti prego Dimmi che è regolare Sì Sì Balotelli Guardami No Hai provato l'assist In Rabona No Balotelli Dai Bastava che l'appoggiavi C'era poco bisogno Di fare la Rabona Comunque A fine primo tempo Contro la Germania È veramente tosta Ragazzi Gioca veramente Molto molto bene Noi comunque Siamo riusciti a costruire qualcosa Purtroppo non è entrato Comunque cerchiamo di dare il massimo Perché se continuiamo così Veniamo sostituiti Anche perché siamo veramente Molto molto stanchi Attenzione Müller Palla dentro però Zili il sinistro Altra paratona Di Buffon E grazie a lui se stiamo ancora in partita Attenzione intanto Guardami sulla corsa Dai che la recuperiamo su Toni Kroos Niente L'ho messo giù Ho fatto fallo Questo mi ammonisce Zili che si porta la palla fuori Ma mi sa che mi ammonisce E invece no Siamo fuori dal campo Ed entra al nostro posto Antonio Di Natale Ok Guardiamoci questa partita A velocità doppia L'avevamo immaginato Perché uno Non abbiamo giocato bene Due erano stanchi Era facilmente prevedibile La sostituzione Intanto qua il tiro di Mertesacker Mi sembra E palla fuori Attenzione Sturaro Di Natale Valotelli Vai Valotelli Vai non la perdere Appoggia per Di Natale Il destro di Di Natale C'è ancora la parata di Neuer Non c'è più tempo Finisce qua Perdiamo la partita Conto la Germania Fortunatamente Era solo un amichevole Queste qui sono le pagelle E noi concludiamo Con un 5 e mezzo Accidenti Insufficiente Migliori in campo Gozze con 8 Però non mi aspettavo L'insufficienza Mi aspettavo un 6 Non di più Però l'insufficienza no Comunque le amichevoli Sono finite A questo punto non ci resta Che andare avanti Nel calendario Perché c'è la partita Di Coppa Di Spagna Conto l'Arcolcon Siamo a 3 titolari Fai del tuo meglio In bocca al lupo Crepi Quindi ragazzi Andiamo a giocare Anche la partita Di Coppa Eccoci qui ragazzi Inizia adesso Atletico Bilbao Al Corcon Attenzione qua Appoggia per noi Possiamo andare fuori uno Via così Appoggiamo dall'altro lato È buona Ora guardami di nuovo Se ce la fai È bella Poi il cross dentro Ci arrivo Attenzione Tunnel al portiere Completamente a caso E poi riescono ad allontanare via Come si nota la differenza Tra la partita di prima Conto la Germania Che non abbiamo toccato Neanche un pallone E questa Dove Siamo già partiti forte Via così Appoggiamo di prima Poi attenzione Guardami sulla Corso Che brutto fall Non ha fischiato Ma stiamo scherzando Stiamo scherzando Da dietro Proprio un calcio L'ha ucciso E questo non è neanche fischiato Appoggia dall'altro lato Tieni la Tieni la Tieni la Ok è buona Il cross dentro Di testa Attenzione è buona Io ci tiro Al volo di sinistro E palla fuori Accidenti Comunque a fine del primo tempo 0-0 Siamo partiti forte Poi ci siamo spenti È buono per noi Dai che possiamo andare col sinistro Proviamo Ribattuto E questi veramente Sono tutti e 11 lì Sulla linea Altro po' dell'aria È davvero difficile Riuscire a passare Dai Dobbiamo vincere È buona per noi Possiamo andare Via così che accediamo Via così Fuori 1 Fuori 2 Rimane lì No dovevo tirar prima Dovevo tirar prima E siamo fuori dal campo Come avevo previsto Attenzione qua Palla dentro Palorete Grandissimi Sono uscito io A segnato Sola Che mi sembra proprio Quello che è entrato Al nostro posto Sola Perché lui di solito Entra sempre al nostro posto Grandissimo Grandissimo gol Complimenti veramente Quando sono uscito io Avete segnato Va bene così Vediamo se accettiamo Per l'ultima azione Sarebbe meglio anche Segnare un altro gol Perché questa è l'andata Però sarebbe meglio Anche non prenderlo È il gol Oh mamma mia Spazza via Meno male Va bene così 1 a 0 Va benissimo così L'andata finisce 1 a 0 In casa Ci sta Queste qui sono le paggelle Valutazione 6 Per noi Migliori in campo È sola Che appunto è entrato E ha segnato il gol Vittoria 8 Ci sta Andiamo avanti nel calendario C'è la partita di ritorno Secondo me dovremmo essere in campo Perché comunque Ne stiamo giocando praticamente tutte Esatto Siamo 3 tesolari L'andremo a giocare naturalmente Nel prossimo episodio E giocheremo 3 partite Anche nel prossimo episodio Io spero ragazzi Che questo video vi sia piaciuto Cerchiamo di arrivare a 500 like Anche perché Abbiamo fatto 3 partite E farò 3 partite Anche nei prossimi episodi Noi ci vediamo con un prossimo video ragazzi Bella